Allora, buonasera Shike, io non ho parole, ma te cedo cazzo, cioè questa è la svolta delle svolte Ghino, amore se si va così forte, questa è la svolta delle svolte perché io non so se vedete che ho la luce per fare video Allora, io mi ricordo che avevo un blackberry ai tempi dei tempi, anzi se non mi sbaglio facevo già i video pure Che c'è, non mi dico che c'è coccola che la cagna in caldo Ai tempi dei tempi facevo i video, anche il blackberry c'aveva la luce per fare video interna O interna o esterna, me lo ricordo Fatto sta che un giorno ho smiso di fame e da lì poi ho smesso di fare video perché la luce non c'era più Comunque ora so, fuori con pancre ansiotto, che il nostro pancre è diventato Occhi ci ennala, che è in caldo È in caldo? Sì Madonna, guarda, è una tragedia in queste cose Ok, comunque A parte che andare a giro con sta luce sparaflesciando il viso E insomma, ecco da lì smisi poi di fare video Però ecco, ce l'aveva anche lui questa cosa Eppure era un blackberry, guardatemi Guardate la mia bellissima Eh, il mio bellissimo cappuccio Era un blackberry vecchissimo eppure anche lui aveva la luce A differenza Cioè, lo vedete che mi fa piangere sta luce A differenza del mio gran neo, che non ce l'aveva Allora, che vi volevo dire? Dove sei Ugo? Ah, allora Allora, a parte, non so se lo sapete Penso di sì, perché ve l'ho postato Cioè, il nostro pancre è diventato La... Ecco Andiamo Ugo Ma io... Ma sei proprio una merda E mi ha tirato tutta la terra addosso È diventato praticamente La mascotte di YouTube Cioè la sciurma di YouTube Di cui vi lascio il link nell'info box Che ha fatto tipo Sti video di pancreazio Madonna, mi sono fatta la stagiglia Sembro di buono Monociglio Che fa il video di pancreazio Con io che dico Ah, ve l'ho detto, no? Quello della merda La merda di pancreazio E poi Ora me l'hanno fatto Un altro invece dove dico Che pancreazio è in caldo E tromba qualsiasi cosa Sono simpaticissimi Allora, io con questa luce sparaflesciata Non vedo niente Stavo praticamente per entrare dentro il cespuglio Senza accorgermi Io, ma che cazzo Ne so Cioè è veramente, veramente fastidiosissima Quindi non è proprio la cosa migliore Andare in giro con Con questa luce sparaflesciata in faccia Per fare video a quest'ora Quindi Penso che fare video a quest'ora Sia una cosa che boccerò Comunque io vi volevo far vedere Questo trucco io ce l'ho da oggi Non da oggi Allora, sono le sette e mezza Io ce l'ho da stamani mattina Questo trucco Mi è durato tutta la sera Andiamo Mi è durato tutta la sera Vabbè, a parte il lip che ce l'ho ridato Perché Maia La noce è gente Non ce la posso fare Ughino, piano Perché se mi butti in terra al telefono di mamma Ci uccide A parte vedono questa lucina Tipo E Dicono Che cazzo è questa lucina Magari cercano i tartufi E La scelta a zero La vista Arretto tutto il giorno Io adesso Ho soltanto ridato Il lip A parte il mascara Che spacca Questo è uno dei Ugo La smetti di farmi il bagno di terra Grazie mille È uno delle pennine di Chico Quei pennini Penso di averceli di tutti i colori Tutte le edizioni C'è C'ho un cassetto intero di queste pennette di Chico Quelle morbide Dai Quelle che si appuntano Che sono andate di moda un sacco di tempo Ora vedo che la gente le usa molto meno Mamma mia Io bisogna che non guardi Ora vedo che la gente le usa molto meno Però comunque sono sempre comode Perché vedi Ti dai una sdrusciata Tipo stamattina c'avevo quella rosa E niente Ho rimesso un po' di illuminante Perché l'illuminante naturalmente Naturalmente Se ci avete fatto caso Non credo Oramai c'è l'hashtag Non posso mettere le due dita Illuminante Come se non ci fosse un domani Sono l'unica che fa questo hashtag Però Se vi capita di fare una foto Con del bellicolo Con gli illuminanti a palla Mi raccomando Hashtag Come se non ci fosse un domani Illuminante Come se non ci fosse un domani E poi io vi posto sempre Hashtag C che C che ci che Ci che vi amo C che I love you C Uh Cioè Allora Cioè Ora vedrete la mia morte in diretta Io non lo so Cioè È veramente faticoso Questa cosa Cioè Sto faticando veramente Quindi ora vi lascio Vi abbandono E basta Cioè Ma lo vedete Quante foglie ci sono Alla parte Volevo vedere Dove ero caduta Ah già lì C'è un C'è un gradino E siamo cadute Nel gradino Praticamente Cioè Oioio Fatica Sono sempre Nel gradino Cioè Se casco in terra E rompo il cionario Dai mamma Mi rompe la testa E me la apre Come una mela Ma la fatica Questo è un bambino Che si dispera Non voglio vedere I bambini che si disperano Comunque Sulle labbra Ho Quello della slick Questi due famosi Che vi ho detto Della slick Molto ruvido Però il colore È molto bello Ma l'effatiato Ho fatto Cioè Allora Voi non avete idea Di quello che mi è arrivato Stamani Allora Stamattina mi è arrivata Una mail Allora Come vedete So se lo vedete C'ho Yeah Il guinzaglio Di pancri Mi è arrivata Una mail Della quale Mi era già arrivata L'altra Ma io pensavo Che questa ragazza Scherzasse No Invece Stamattina Mi ha dato la conferma Allora Io non vi dico cos'è Perché veramente Cioè Io ve lo giuro Ho rischiato Cioè Pancri Mi stai facendo Struffare Cioè Avete visto Quando uno si struffa E oddio Qui c'è lo scalino Ok E Praticamente Non vi dico Se è perché Ve lo giuro A me stavano Mi avevo un infarto Mi è venuto Non ho un mezzo infarto Tutto infarto Cioè Ho fatto un urlo Pazzesco Ero in macchina Con il babbo E ho detto Oh famiglia Ma che bel cino Ho detto Babbo Cioè Te non puoi capire Cosa mi ha scritto Questa ragazza Quindi per adesso Non vi dico niente E poi Vi Vi faccio vedere Il tutto E Cioè Vabbè E comunque sia Poi da lì Vi farò Oh c'è Basta Sono troppo Sono troppo Emozionata Erano anni A parte Lo stare bene Che sto da Dio Ma erano anni Che non ero così Emozionata Come una bambina Perché veramente I miei sentimenti Si erano Come si dice Si erano affossati Proprio E comunque Arigà Cioè io mi truccavo Veramente le merda Continuo a dirlo Vi devo mettere il video Dove lo dico Ma Cioè io riguardavo Alche video Favo veramente Ride polli Cioè Allora A proposito di video Scusate se vi faccio Vedere la strada Che percorriamo Eccoci Oh mio dio C'è gli scalini Ci ho già battuto La bocca Di anzi Quindi una volta Una volta almeno Non sarebbe una tragedia Piano Ugo Ecco Ugo Amore Piano Per piacere A chi che entra Queste foglie Ho riscavato la vita Per l'ennesima volta E Che vi stavo a dire Mi ha scordato Come lo ricordo Acciderba Al mondo Birbone Che stavo dicendo Piano Ah Allora Questo famoso No Ugo No No amore Andiamo Anche perché Te sei già stavo fuori Tre volte Oggi Allora Ho visto questo famoso video Sto facendo le pirouette Cioè Ho visto Ho visto Questo famoso video Allora Premetto Io quando A parte guardate Che bello Questo smalto Della Melissa E il top coat Della Kiko È grande È un grande top coat Anche se costa qualche euro O un euro Un euro e cinquanta Più di quello Della Essence Allora Ho visto questo video Allora Io ho fatto il video Del Nabla E ve l'ho messo Per l'appunto Oggi Che non so questo Quando ve lo metterò Penso domani Oggi è lunedì Quindi E Allora Io devo essere sincera Un sacco di voi Mi hanno detto Che il Nabla Non gli sono piaciuti Una ragazza Mi ha scritto Guarda L'ho preso Sia io che mia sorella Non ci sono piaciuti Non ci sono piaciuti Non ci sono piaciuti Tantissime di voi Mi hanno scritto Che non gli sono piaciuti E Mi hanno detto Che chi l'ha ricevuti gratis Dice che gli piacciono E quell'altre no Allora Io premetto Voi lo sapete Che io l'ho ricevuti Comunque Come il regalo Da Giorgio E Farà amorista Ma Giorgio E Amore Mi aspetti Grazie Troppo buono Vai E Comunque A me mi sono stati regalati Però Non l'ho ricevuti Dalla Nabla Ok Io Cioè raga Ieri ho cercato Comunque quando ho fatto il video Ho cercato di spiegarvelo Nel miglior modo possibile Però ecco A me tutto Sto schifo Non mi fanno Certo È vero Che Anarchi Ha qualche pecca E Magari Durante L'arco del tempo Fa delle piccole Aspetta Pankrix Fa delle Ugo Vieni un attimo Che poi piccino Mi attira Come un toro Amore Qui un attimo Fa delle piccole Crefette Qui Però ecco Il video di questa ragazza Mi è sembrato Un po' Troppo esagerato O comunque Non è che è esagerato Il video Però a me Tutto l'effetto Pessimo Che dice lei A me Non me l'hanno fatto Cioè io ho visto Dei video suoi Dove lei naturalmente Ha messo i suoi spezzoni Che tipo Lì si Veramente Li va Il lip Li va da tutte le parti Come dico io Gli evacuano Per la faccia E questa cosa È una cosa Orribile Per quello è chiaro Però Cristo Dai non lo fanno Nemmeno le fialette Di e beh Ora è possibile Che lo facciano In habla Allora Premetto Che io i rossi Non li ho provati Nei rossi E nei rosa I miei sono Scusate Tutti marroni O comunque L'unico Che è scurissimo E coco E l'altro Che è anarchica Un viola Io Tutto Quella Quella dispersione Nella faccia Cioè Tipo a lei Gli arrivano Quassù Ma no Dispersione Di colore Nel senso Amore Dov'è che sei andato Amore Perché vuoi entrare lì Che è tutto chiuso Cioè Perché ci dobbiamo Infilare nei neandri Di Santa Andrea Cioè Ok Ugo Dai Andiamo E insomma A me tutto quel verso Non l'hanno fatto Però Io Boh Ribadisco Ecco Tutto quel Secondo me Cioè Se gli fanno In quel modo Lei ha fatto bene a dirlo Lo sapete come la penso Sempre Forever Dire quello che pensate Chi se ne frega Di quello che dicono gli altri Qualcuno mi ha anche detto Che lui non è stato molto professionale Rispondendogli in quel modo Io ho letto anche La risposta Effettivamente Non lo so Dovresti comunque Accettare le critiche Bom Cioè I tuoi lip Non sono Gli unici lip Sulla terra Ed è normalissimo Essendo i primi lip Che fai Ed essendo comunque Le prime armi Che ti possano venire Dei lip Come quelli Della mulac Che vennero male Cioè Quindi non Io non ci vedo niente di male E niente di poi così Oh mio dio Ecco Però Che direvi invece A me lui È sempre piaciuto molto Quindi Ultimamente Non lo seguo più Ma perché ve l'ho detto Io ultimamente Seguo pochissima gente Su youtube Perché Non lo so Mi sento Vado a seguire persone Con pochissimi iscritti A differenza di altre ragazze Che ne hanno due miliardi Cioè Per esempio Guardo La Chiara Moneta Che mi piace tantissimo Guardo Un'altra ragazza Che mi ha mandato Stamani Si chiama Asia E qualcosa Si sta spengendo La registrazione Oh Ora mi voglio fumare Una sigaretta Poi Che mi guardo C'è un'altra ragazza straniera Che mi piace un sacco Insomma ecco Va a finire Che guardo Tutte ragazze Con Meno iscritti Perché Secondo me Sono meno montate Di altre E c'è niente da fare E questo è E questa è la verità Quindi Comunque ecco Poi ognuno È libero Di fare ciò che vuole Anzi Hashtag Peace and love Proprio Piii Cioè Scusate la mia mano Piii 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 Allora Vi volevo trattare Un argomento Un po' particolar Che era tantissimo E voi aspettavate Che io vi parlasse Di questa cosa Cioè la mia dipendenza Allora io ultimamente Sto talmente bene Che Cioè lo vedete Ma allora Io ho guardato Qualche foto Qualche foto vecchia E qualche video vecchio Amore Bravo Si vede Soltanto dal colore Della faccia Cioè dal viso E dalla luminosità Che al mio viso Si vede Quanto io possa stare bene Va bene Uso la crema Ma non credo Che sia la crema Che poi fa tutto Sto bene Questa luce Ormai è diventata Mi ha praticamente Bruciato la retina Io non ci vedo più Però E Allora io avevo Una dipendenza Da droga Ormai penso Si sia capito Le due peggiori droghe In assoluto Le assunzioni Della droga Avvengono In più modi E Io voglio cercare Di parlare In questo video In maniera Che non mi venga Appunto Bannato Comunque No bannato Che non mi venga data Il limite di età Mi sa che è tolato papo E Quindi io ero Proprio Al peggio del peggio Sia come sostanza Che come assunzione Allora Io Oramai sono 15 anni Che ho Questa Dipendenza E Comunque sia I primi anni È stata Una tragedia Nel senso Che Come io Sono sempre stata Molto Da Cioè Io le cose Le facevo Ne facevo per niente Faccio per bene Ne faccio per niente Quindi da subito La mia dipendenza È stata bella Cadulla E i primi anni È stata una tragedia Perché comunque Non me la gestivo Perché comunque Avevo cominciato Allora Ero 16-6 In viaggio di nozze E E piano piano Invece poi Con gli anni Mi sono comunque Assestata Andavo al lavoro Però io avevo Comunque la mia dipendenza E tutto ciò Era Sì Quando ti assesti Comunque Da una parte C'è nel senso Non è Una tragedia Perché comunque Sì La cosa c'è Però riesci Allora Siccome quando hai Una dipendenza È uno dei bisogni primari Che ti devi soddisfare Io Riuscendo a soddisfare Questo bisogno Ad inizio giornata Magari No Ti organizzavi Prendevi Un tot Che ti poteva Far arrivare A più giorni O comunque E io stavo bene Oppure Allora Il tempo massimo Di registrazione È poco Quindi Dai Vi dirò un po' di cose Poi Se riesco Comunque ve lo faccio Questo video Altrimenti ve lo faccio Quando torno Per venino Quindi Comunque Anche se Non ce l'avevo Poi magari Perché comunque Poi prendevo Delle sostanze O comunque Dei farmaci Dati dallo stato Che ti facevano stare bene Perché altrimenti La gente andrebbe a rubare E quindi Comunque Ho cercato sempre Di Amore Sei passato da sotto La Ho cercato sempre No ho cercato Me la sono sempre gestita Poi il mio ex Quello che siamo stati 13 anni insieme Era una persona Molto Diversa Da me Caratterialmente Mi so Riusciva a contenere Parecchio la mia Sbam Io ero una bomba A mano Sempre e comunque Lui riusciva molto A sostenere Questa cosa E affermarla Mentre Alina è come me Non ha limiti E quindi Comunque io Per tutti questi anni Sì ho avuto I miei Alte e bassi Come sempre Però Ho avuto Sempre un lavoro Sempre lavorato Insomma Ho sempre comunque Cercato di mantenere Una certa normalità Anche perché Vivendo a casa Con i miei genitori Una grande parte Veniva Come si dice Veniva Attenuata Perché i miei genitori Facevano una grande parte Di attenuazione Io e il mio ex Siamo andate a convivere Un anno E anche lì Bene o male Sì c'è stato Un po' di delirio Però vi ripeto Lui mi conteneva molto Lui al lavoro Era una persona molto rigida Ha sempre lavorato tanto Quindi bene o male Anche lì Ci siamo arrangiati Allora Il problema è stato Quest'estate Perché i Aline Vi ripeto Abbiamo due caratteri Molto simili Non abbiamo un limite E questa cosa Di non avere limiti Ci ha portato A sprofondare Allora Io penso Che chiunque Ha una dipendenza Prima o poi Tocca il fondo Ci sono persone Che toccando il fondo Vanno sempre più giù Però E questa è una rarità Cioè nel senso È una bassa percentuale Le persone Che comunque La maggior parte Delle persone Che toccano il fondo Arrivano a toccare il fondo E poi risalgono Perché la maggior parte Scusate Non vedo un cazzo Della gente Dice Perché poi Toccando il fondo Si risale E per noi È stato proprio così Cioè noi abbiamo toccato il fondo E siamo risaliti Altrimenti Io sicuramente Avrei mantenuto La mia vita In quel modo Per tutta la vita Perché io ero Una sostenitrice Accanita della mia vita Io la mia vita L'avevo scelta Che poi la scegli all'inizio Ma poi non la scegli più Perché diventa una dipendenza Quindi non è più una scelta Però ecco Era una sostenitrice Una grande sostenitrice Cioè la mia vita Era la mia vita Io ci stavo da Dio Nel mio E Certo poi Raga Sempre anche una questione Di carattere Cioè io Ho persone Conosco persone Che avrebbero unculato la mamma Pur di Fasse qualcosa Però Cioè Quella è una questione Caratteriale Io anche con gli amici Sono sempre stata molto Amici Poi Ricordarsi Che le amicizie In queste circostanze Non ci sono mai Né per chi beve Quindi Gli amici di bevute Gli amici di fattoni Gli amici di fattanza Allora A me Sinceramente La mia dipendenza Ma anche Ribadisco Io le cose Le fomero Non fomero per niente Da quando ho cominciato quello Facevo solo quello Cioè non andavo più A ballare feste Era diventata una cosa Molto Mi sono Parecchio Chiusa In questa cosa Però ecco Allora Non c'era mai stato Sempre Ribadisco Alti e bassi Ma non Come adesso Noi quest'estate Abbiamo veramente Toccato il fondo Siamo andate a vivere Per strada Cioè noi avevamo una casa Ma vivevamo Praticamente per strada E Tutto ruota Intorno a quello Cioè te non hai più Sentimenti Allora Io vi ribadisco Che per noi È stato tutto Dalla morte di Axe Quando Axe Non c'è stato più Noi per non sentire il dolore Di questa cosa Abbiamo affossato ancora di più E quindi fate voi Allora io non l'avevo mai fatto Perché comunque in tutta la mia vita L'avevo fatto perché lo volevo fare E non per affossare un sentimento E quella è la cosa più brutta Anche per un etilista che beve Uino Anche per un etilista che beve Quando c'ha dei problemi in casa O comunque Se affossi E bevi per quello È una tragedia Perché poi I problemi ci saranno comunque Però te Per non sentire quel problema Ti affossi Ti affossi Ti affossi Un'altra cosa che ho notato Perché ultimamente Sto guardando anche dei documentari Insomma Tante persone Dicono Eh avevo la famiglia così I miei genitori litigavano Ero disgraziato Allora Io vi posso garantire Almeno per me Non è stato così Per la maggior parte di persone Che conosco Non è così Cioè Siamo tutta gente Che ci si infila In una determinata situazione Va bene I problemi Ci sono sempre stati Ma i problemi Ce li hanno tutti Questo Tirarsi addosso Questa Io avevo problemi Questo Sentirsi vittime No Darsi delle giustifazioni Per farsi È la cosa peggiore Io non l'ho mai fatto Anche questo Fatti tanti dottori O comunque Perché io ho conosciuto Psicologi Psiciatri Mi hanno detto Il buono Il buono Tu E che ti rendi conto Della situazione Sì Me ne rendevo conto Però io ci stavo bene Nella mia situazione Quindi era impossibile Che ne venissi fuori Quindi guardate Vi posso garantire Che nel male Se non c'era stato Questo male Camilla Non ne sarebbe mai Venuta fuori Ma ve lo garantisco Questo c'è Proprio ci metterei La firma Quindi Niente Tutte le dipendenze Sono sbagliate Tutte le dipendenze Creano dolore Alla persona stessa E a chi ti sta intorno Perché comunque Te non hai più Cioè Diventi un Diventi una cosa Senza sentimenti Diventi Diventi una Una larva Cioè Anche se te Alcune cose le fai Perché te i fai Cioè vai al lavoro Perché ci vai Perché ti servono i soldi Per fare quello Diventi Interiormente Una larva Cioè i tuoi sentimenti La tua anima Si secca E questa penso Sia la cosa peggiore Anche perché poi Quando smetti Devi cominciare Di nuovo a vivere E quindi devi Ricominciare la tua anima A dargli da bere E questa è una cosa Wow Tremenda Io Sinceramente Veramente Questa volta Abbiamo preso Una grossa decisione Io solitamente Ripetisco Non l'avevo mai fatto Perché Io ci stavo Beh Però abbiamo preso Questa decisione Però perché Io voglio fare una famiglia Voglio fare una famiglia Con lui Voglio stare bene E Così Non mi piace Cioè io comunque Ripetisco Mi ci sono sempre divertita Arrivare a toccare il fondo In quel modo A me è servito Per poterne Tirare fuori le gambe Altrimenti Non Non l'avrei mai fatto Va bene Stanno finendo Di nuovo i minuti Comunque noi siamo Tornati a casa Che è un po' Un graziuccio Io ora vi ho detto Un po' a grandi linee Quello che mi veniva In mente di dirvi Però sappiate Che un video Ve lo farò Magari se vi fa piacere Fatemi qualche domanda Comunque Bimbe Io tra poco parto In questa settimana Dovrei partire Quindi quando torno Poi daremo Libro sfogo Alle nostre Alle nostre cose Ora Anche il video di Leda Lo farò Perché non mai Ve l'ho promesso Alcune domande Le abbiamo già fatte E comunque Ho sperimentato Ho provato Perché La mia nonna C'è gente A cent'anni quasi Quindi Ho provato a fare Alcune cose Quindi Niente Poi magari Ve lo faccio Per benino Però ecco Magari poi Una volta che torno Faremo tutto Quanto Per benino Allora Io e il signor Pancri Vi salutiamo Fate brave Vi lovo Spippeggiate poco Mi raccomando Hashtag Illuminante Come se non ci fosse Un domani Ciao Vi amo Se tengo il dito lì È inutile Ne posso appicciare Un stop 50 volte Ma non Ne sto Pa Ciao 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 Grazie.